e diremo chi fa su Catania in Serie A su tutti i Catani si fa sognare siamo tutti tutti e su siamo vettiglia Andugar senza voto città di Ciaruano due sui gol imparabili e vedezze in braccia vessa poi restosi da lì a battita meno male che era la volta si ci si buonano con l'ombrello e con tutta l'acqua ci veniva una premonia dagli ultimi venti minuti se lo aveva in quanto lo poteva e s'abbiava chi ti diventa accionzato veloce 5 e mezzo di poche volte che si vira all'attacco fa venere da rire tutto che si stocca si furia fa finta e poi si ruba i peri se chi appa con tutti siamo sia sempre Giuseppe che la fattilla ne ha resato ogni tanto nebboso Spolli 6 Fissaria non ne fa ci metto e chi pezza più quando venu puttoso ormai si insegnava a fare sti calate e capallante veri su parecuito e illusio ho fatto crescere la vabba va Roland 6 dici che amico o cavani india bell'amico ci caricava una settimana di coppa che con tutta l'acqua scioppiava ancora il cassai amici va di te capoano 5 avevo 40 anni che io che fa sempre le stesse solite fisserie dopo il primo gol che a me si chi si pesse un gioco a mero secondo tempo dal secondo gol ci stesse mezz'ora a paghianare niente fuori gioco non è cosa so è inutile che uno si veniva non ce la fa ma tempo pesto noti senti ma vedi giocavo sabato a napoli non ho visto mi darei la partita dell'intera siena e non c'era come l'anno vango ma non stai giocando viaggianti 5 e mezzo ma come mi spieghi che ti faccio pallone e chi ti c'ha che ti sembra e sembra che ha toccato pallone con tuo grasso dell'olio c'è solo un aggettivo anniato iessico sei e mezzo falla come vuoi sembri cucuzzi si vinge si pareggia o si perde idu c'è sembri non molla non s'arrende glietta pallavanti e cuore capitano papu gomez sei mischino idu c'è il nano tutto pagnato pareva un pò dicino a taglio non aveva sempre lui c'è da Napoli però c'è tutti piggiava la palla e il più vicino era a 20 mezzo assappanato pariandosi sei come un discorso i battiti ancelotti io lo faccio oh quando viaggiando ci ha risultato un passaggio capi sbaglio mi sto lavando il potere e tu tu cali dal secondo tempo se ne cala l'acqua e se ne cala magari rito mensa ammolatore ben gessio scinga e mezzo gonzalo gonzalo che fa mentre ci si doveva buttare a casa da tutta partita arriva a fare solo un tiro un tiro solo e chiudendo rito toro sei toro seduto ammiron senza voto tigna bagnata tigna fortunata a quale ciasi id non abbiamo più un'occasione non è baglialunga tigna tigna otto otto presenze in serie A l'esempio per tutti chi ti capano giocare pallone su uno come i tu fici otto presenze c'è speranza di giocare in serie A magari sessanta anni sui cittadini caglianci per chi si sente scasso uno può ringuare dicendoci gioia ma da lì a questo che hanno oggi in serie A tigna dici otto presenze ce la puoi fare magari tu speranza maran sei quando una partita nasce stotta non c'è niente di che fare chi ti fanno cittiri e due gol variando se si ammucca un gol che era solo ci poteva stare in rigore che su Ceraconte già si aveva pinnato tutto il paro e ci annullano un gol che su Ceraconte già ci ha vittato mano dal secondo tempo se vuole questa panchina in Italia uno non da faccia e ci fa due guariti e poi c'erano che Horazio Russo non era indistinto e dice già se era Mirona che bestia sconfitta va speriamo che la cucina napoletana si potrano dietro ma oggi ora invece cerchiamo di fare punta d'Atalanta va maran maran maran